Le mie prime parole sono delle parole di ringraziamento per avermi consentito di essere qui oggi e di poter partecipare a questo evento culturale che ritengo davvero unico nel suo genere e quindi con enorme piacere e anche con grande onore che sono qui oggi e prendo la parola. Passo alla mia relazione. Dagli anni 70 qualcosa è cambiato nel nostro rapporto con il futuro, ma anche nel nostro rapporto con il passato, mentre contemporaneamente la categoria del presente acquisiva sempre più importanza, un presente invadente, quasi come aspirasse all'autosufficienza. Contemporaneamente unico orizzonte possibile, un orizzonte che si abissava sempre di più istante dopo istante nell'immediatezza. Previsione, prospettiva, piano, futurologia, queste parole d'ordine del XX secolo sono diventate una trappola. Oramai il tempo sembra orientato soltanto all'immediatezza, all'urgenza. L'emergenza è ciò che ci concentra. Noi siamo concentrati sulla risposta immediata all'immediato. Bisogna reagire in tempo reale, fino alla caricatura nel caso della comunicazione politica. Oppure, un altro atteggiamento, opposto a prima vista, ma che ci riconduce invece all'unico presente, è un futuro che è fin troppo prevedibile. Siamo quindi posti di fronte a una irreversibilità, di cui noi stessi siamo stati gli iniziatori. Sempre di più siamo entrati nel tempo delle catastrofi. Il tempo non è più una promessa, ma una minaccia. Questa trasformazione dei nostri rapporti rispetto al tempo ha delineato una configurazione inedita, quella che propongo di definire come presentismo. Come se il presente, quello del capitalismo finanziario, della rivoluzione dell'informazione, di internet, della globalizzazione, ma anche della crisi iniziata nel 2008, ebbene come se questo presente assorbisse da solo le categorie divenute più o meno obsolete del passato e del futuro. Come se, diventato lui stesso il suo unico orizzonte, ebbene il presente diventasse un presente perpetuo. Con lui sono balzati in primo piano nei nostri spazi pubblici queste parole, che sono diventate delle parole d'ordine, delle parole macedonia, che si traducono attraverso delle politiche. E queste parole sono memoria, patrimonio, commemorazione, identità e così via. Si tratta di altrettanti modi per convocare il passato nel presente, privilegiando un rapporto immediato, facendo appello all'empatia e all'identificazione. Basta visitare i memoriali e altri musei di storia, inaugurati in grande numero in tutto il mondo negli ultimi anni, per convincersi di quest'idea. Inoltre, questo presente presentista, a sua volta, è contornato da un insieme di nozioni o concetti più o meno atemporali, come modernità, postmoderno, ma anche globalizzazione, e anche la parola crisi. Infatti, che cos'è una crisi sistemica, se non una crisi che dura, che quindi non è più un momento decisivo, quello che scrutava l'occhio del dottore Greco per stabilire la sua prognosi. Con la crisi sistemica, siamo intrappolati in una sorta di presente perpetuo, quello proprio della crisi del sistema. Se posso dirlo, si è passati da Ippocrate a Sisifo, Sisifo che non smette appunto di spingere il suo masso. Sotto la categoria del presente, il contemporaneo, termine ultimamente molto studiato negli ultimi anni, ebbene, si è ricollegato un imperativo della società, un imperativo politico. È diventato una sorta di evidenza indiscutibile. Di fatto, una pressione anche sostenuta dai media, dai finanziatori pubblici e privati, una pressione viene esercitata su tutte le istituzioni affinché si orientino sempre di più sul contemporaneo e rispondano meglio e più velocemente possibile alla domanda sociale. Ma di che cosa si compone questo contemporaneo? Una serie di parole il cui uso si è imposto sono un modo per riconoscerlo e per esprimerlo. Quindi, in mancanza di grandi narrazioni, circolano invece delle parole d'ordine che fungono da supporti di racconti frammentari e provvisori. Queste parole sono diventate parole inevitabili. La parola d'ordine è del contemporaneo. E innanzitutto c'è il quarteto che ho già citato, formato dai termini memoria, commemorazione, patrimonio e identità, a cui occorre almeno aggiungere il termine crimine contro l'umanità, vittima, testimone e altri ancora. Ebbene, da molti punti di vista, patrimonio, identità, memoria sono parole d'ordine per questi tempi così incerti. E questo vale particolarmente per l'identità nazionale. Essa può indicare il passato nazionale, vale a dire le generazioni passate del nostro Paese. E in questo caso riguarda una situazione cristallizzata, poiché il passato oramai è passato, è un oggetto storico. In compenso, il futuro, che è l'altra faccia dell'identità nazionale, significa che noi abbiamo un'identità nella misura in cui abbiamo un futuro e abbiamo quindi un problema d'identità legato proprio al fatto che abbiamo un problema col nostro futuro. Il problema identitario quindi posto a livello collettivo implica la difficoltà di figurarsi un futuro che sia il nostro. Verso la metà degli anni Ottanta si è constatata la comparsa del fenomeno memoriale nello spazio pubblico e questo sotto diverse forme. In Francia, il primo volume dei Lieux de Memoire, Luoghi di Memoria di Pierre Norat è stato pubblicato nel 1984. Eshoa, il film di Claude Lanzmann viene proiettato nel 1985 e come dicevo poc'anzi sono numerosi i memoriali e i musei della memoria che sono stati inaugurati negli ultimi 30 anni un po' ovunque nel mondo dall'Holocaust Memorial di Washington inaugurato nel 1993 fino ai numerosi musei della memoria che hanno accompagnato le diverse transizioni democratiche o più o meno democratiche e come qualsiasi parola legata a un'epoca anche il termine memoria si basa su una plurivocità quindi rimanda a una molteplicità di situazioni tutte queste situazioni sono caratterizzate da temporalità diverse a seconda che si parli di Shoah di Rwanda di Africa del Sud oppure della tratta dei neri ebbene questa parola non assumerà lo stesso significato anche se viene sempre inserita nell'orizzonte temporale unificatore e inedito dei crimini contro l'umanità quindi questo termine viene inserito in un tempo che non scorre quello dell'imprescrittibile e sin dalla redazione della carta del Tribunale di Nuremberg l'azione pubblica effettivamente è divenuta imprescrittibile nel caso dei crimini contro l'umanità e con l'inaugurazione della Corte Penale Internazionale nel 2003 questo regime di imprescrittibilità è stato ormai riconosciuto dalla stragrande maggioranza degli Stati imprescrittibile significa che il tempo prescrive e questo è il principio ordinario della giustizia ebbene in questo caso questo principio non vale così come non si applica il principio di non retroattività della legge quindi il contrario dell'imprescrittibile non è il tempo che passa ma il tempo prescrive e entrambi i principi sono costruiti allo stesso modo imprescrittibile significa dunque che il criminale rimane contemporaneo rispetto al suo crimine fino alla sua morte così come noi rimaniamo o diventiamo contemporaneamente i contemporanei dei fatti che vengono giudicati come crimini contro l'umanità l'imprescrittibilità per natura stessa del crimine contro l'umanità crea una atemporalità giuridica la cui traduzione sociale è quella di un presente perpetuo e si ritrova lo stesso principio simetricamente applicato alla vittima che le vittime che in questi anni hanno guadagnato la scena negli spazi pubblici oramai esiste un diritto delle vittime ebbene per una vittima l'unico tempo disponibile rischia di essere il presente quello del dramma che si produce o che si è prodotto o anche del dramma che può essere avvenuto anche molto tempo prima ma che è come se fosse rimasto al presente che si tratti di un presente cristallizzato oppure di un passato che non passa allo stesso modo con Shoah Lanzmann ha voluto realizzare un film di testimoni e sulla testimonianza ma non sul ricordo poiché il suo oggetto è quello che Lanzmann stesso definisce l'immemoriale vale a dire l'abolizione della distanza tra passato e presente la forza particolare del film consiste nel fatto di mostrare effettivamente allo spettatore degli uomini che entrano nel loro status di testimoni cioè coloro che oggi ritornano a essere quelli che erano stati 35 anni prima ebbene per così dire si passa da un momento all'altro dal presente delle riprese al presente della scena ricordata è così che il film crea una atemporalità che diventa anche una contemporaneità analoga a quella definita anche attraverso il crimine contro l'umanità il patrimonio oramai termine familiare è abituato alla retorica ufficiale che fa parte dei nostri discorsi di tutti i giorni a Parigi il Louvre inaugurato nel 93 rappresenta il trionfo del museo del patrimonio in occasione di ogni mese di settembre c'è un ritorno del patrimonio sotto la forma delle giornate dedicate al patrimonio si tratta di una manifestazione diventato un appuntamento abituale e questo ormai è divenuto lo sfondo per riflessioni sull'oggetto patrimonio un segno della sua presenza oramai familiare e consueta nei nostri spazi pubblici ebbene il patrimonio è un modo per coniugare delle temporalità discordanti quando i punti di riferimento scompaiono si sgretolano quando il sentimento dell'accelerazione del tempo rende più sensibile il disorientamento ebbene il gesto di mettere da parte di eleggere dei luoghi degli oggetti degli eventi e definirli come o dimenticati diventa un modo di fare specifico diventa un modo per ritrovarli e ritrovarsi e ancora di più quando questa minaccia travalica e va a minacciare il futuro ebbene l'ambiente stesso diventa patrimonio e allora ci si impegna per proteggere il presente per si dichiara preservare il futuro ed è qui l'estensione più recente e anche più rilevante del concetto che ormai è diventato operativo e che è orientato sia al passato ma anche al futuro e questo sotto la responsabilità di un presente che si vede e si percepisce come minato da un passato di violenze e si sente minacciato da un futuro all'insegna di catastrofi ebbene se si volesse fare un catalogo dei vari usi attuali del concetto di patrimonio ebbene si noterebbero subito anche la plasticità e la elasticità di un tale repertorio oggi il patrimonio si trova intrappolato tra storia e memoria perché in realtà ha a che fare con entrambi è un partecipe di entrambi anche se oramai è entrato sempre di più nella sfera di attrazione della memoria ebbene effettivamente della storia oramai c'è stato riportato il concetto di monumento storico e ha assunto tutto il suo ruolo in una storia concepita come nazionale e ha portato un'amministrazione delle forme di sapere degli interventi che sono stati quelli in Francia realizzati dal servizio dei monumenti storici parallelamente il museo sottraeva degli oggetti al tempo ordinario per mostrarli teoricamente per sempre alle generazioni future poiché la loro selezione li rendeva teoricamente inalienabili ma oggi oggi in nome di una migliore gestione delle collezioni ebbene ci si pongono molti interrogativi su questo punto per quale motivo il museo che deve valorizzare il suo patrimonio deve invece far circolare alcuni dei suoi fondi di collezioni allora perché allora un museo non può vendere i suoi oggetti e quindi diventare un attore del presente a pieno titolo ebbene a questa prima accezione di patrimonio come diciamo ausiliario della storia è andata ad aggiungersi la nozione quindi di patrimonio ripreso dalla memoria e questo si ricollega anche al malessere del presente il concetto moderno di storia di una storia processo e sviluppo ebbene incorporava la dimensione del futuro e stabiliva analogamente il fatto che il passato fosse passato ma fosse dinamico in base a questa prospettiva il patrimonio era concepito come una sorta di deposito storico da trasmettere da preservare per essere in grado di poterlo trasmettere ma con i dubbi sul futuro e anche quasi la perdita di terreno della storia il patrimonio se consentitemi il termine si è memorializzato ma è presentificato si parla di patrimonializzazione e al limite tutto oramai può diventare patrimonio per rendere più abitabile il presente per andare a definire dei punti di riferimento e così per poterlo preservare ma in questa nuova economia del patrimonio ebbene quello che è messo in discussione è proprio l'orizzonte del futuro nonché il concetto stesso di trasmissione i musei devono affrontare lo stesso problema ebbene si chiede ai musei di diventare sempre più contemporanei più contemporanei del contemporaneo e quindi cercando di rispondere alle richieste di un presente che diventa contemporaneamente evanescente e omnipresente come può anche esso presentificarsi organizzando sempre più eventi ad esempio delle mostre temporanee ebbene eventi che non fanno che aumentare il fatturato ebbene un museo senza collezioni permanenti sembrerebbe essere un museo orientato sempre di più al presente che evolve continuamente perché è pienamente nel presente o meglio presentista questi spostamenti o meglio questi cambiamenti del nostro rapporto con il tempo sono forse il segno di un fenomeno transitorio oppure di un fenomeno duraturo nessuno sa ancora dare una risposta chiara anche se oramai sembra che la risposta sia più che si tratti di un cambiamento duraturo ebbene i diversi appelli alla ripresa per usare un termine economico nonché l'uscita da quella prospettiva a breve termine sono appelli più che altro incantatori per il filosofo Marcel Gaucher ebbene c'è stato un vero e proprio cambiamento profondo di rapporto con la storia e lo cito ha assunto la forma di una crisi del futuro e la cui scomparsa dell'idea rivoluzionaria è stato solo il sintomo più evidente con la possibilità di rappresentarsi il futuro ebbene quello che entra in crisi è la capacità del pensiero storico di rendere intelligibile la natura delle nostre società sulla base dell'analisi del loro divenire e di conseguenza viene messa in discussione la sua capacità di fornire delle linee guida per la loro azione trasformatrice sulle se stesse e questo proprio per la previsione e il progetto fine della citazione questo cambiamento di esperienza del tempo ebbene è quello che il concetto moderno di storia non riesce o non riesce più a fare proprio profondamente futurista ebbene è un concetto che non è più operativo non è più adatto per cogliere il divenire delle società società che tendono a evolvere unicamente concentrate sul presente non sanno più come calibrare il loro rapporto con un futuro che diventa sempre più percepito almeno in Europa come un futuro minaccioso all'insegna di una catastrofe che sembra arrivare e sembra essere incombente questo futuro non è più concepito come indefinitivamente aperto bensì al contrario come sempre più limitato se non chiuso e questo a causa anche dell'irreversibilità generata da tutta una serie di azioni da parte nostra e si pensa subito ad esempio al riscaldamento climatico alle scorie nucleari alle modifiche sulla materia vive e così via scopriamo in modo sempre più accelerato e in modo sempre più preciso che il futuro non solo si estende sempre più lontano di fronte a noi ma che quello che noi facciamo o non facciamo oggi avrà un impatto su questo futuro così lontano un impatto che appunto non rappresenta nulla rispetto alla scala di una vita umana dall'altro lato a monte abbiamo appreso che il passato veniva da lontano da sempre più lontano ebbene i primi ominidi vengono appunto fatti risalire a un'età sempre più lontana e anzi oramai si parla rispetto all'età dell'universo di 14 miliardi di anni rispetto a questi sconvolgimenti dei nostri punti di riferimento e ricordiamoci semplicemente che la cronologia dei 6 mila anni della Bibbia più o meno è stata mantenuta fino al 18esimo secolo ebbene di fronte a questi sconvolgimenti siamo tentati di dire basta di cercare di sostenere un ritorno verso il passato di ritrovare un paradiso perduto l'industria dell'intrattenimento ha subito colto il vantaggio che poteva trarre dalle isole paradisiache nonché da altri terreni vergine in cui i turisti possono comprare delle esperienze di decelerazione programmata rispetto alle minacce e alle paure provocate da questi sconvolgimenti ebbene su questo può innestarsi anche una forma di terrore della storia un certo ecologismo radicale o fondamentalista sembra portare in questa direzione quanto al passato storico ebbene si tende a trattarlo gestirlo in luoghi precisi tribunali e attraverso azioni specifiche le politiche memoriali al presente e per il presente sotto l'autorità della memoria ebbene in realtà non si sa più molto bene che cosa bisogna intendere con la parola storia ebbene che è stata invece la grande istanza di senso dei tempi moderni ed è da questa trasformazione del nostro rapporto con il futuro abbiamo una testimonianza anche da parte dello sviluppo incredibilmente rapido del principio di precauzione al punto che è stato scritto nella Costituzione francese rispetto all'uso che ne viene fatto questo principio che è la traduzione di un'incertezza che sulla base delle conoscenze scientifiche di cui si dispone non può essere eliminata ebbene questo principio può trasformarsi in un semplice principio di astensione in nome dell'ideologia del rischio zero un'altra espressione di questo spostamento si manifesta nel ruolo sempre più grande dato alla prevenzione soprattutto anche in ambito penale ma anche il ruolo sempre più attivo crescente del tema della sicurezza e così la legge francese rispetto alla detenzione per motivi di sicurezza cito consente di mantenere un condannato in carcere anche dopo che questo abbia spiato la sua pena e questo per una durata di un anno un anno che può essere rinnovato indefinitivamente sulla base dell'unico criterio della sua pericolosità ebbene a partire da un calcolo di probabilità si fa una valutazione della pericolosità di un individuo e si decide quindi se mantenerlo in carcere anche dopo il termine della sua pena privando quindi questo individuo di una possibilità di futuro ebbene si vede in che modo questi approcci portino a considerare il futuro come una minaccia e in un certo senso portino a sopprimere la storia o al meglio la sua possibilità questo in nome dell'urgenza del presente e anche per la sua protezione in senso più ampio alcuni pericoli planetari ebbene hanno degli effetti così come l'ha notato la giurista del Mas Marti hanno degli effetti potenzialmente illimitati nel tempo a seconda che siano legati alla violenza tra gli esseri umani il terrorismo oppure all'onnipotenza dell'uomo sulla natura pericoli ecologici o biotecnologici ebbene questi pericoli portano a diverse forme di sicurezza preventiva quindi o è l'istante che viene prolungato quando l'emergenza diventa permanente oppure il futuro viene integrato al diritto positivo attraverso delle tecniche che vanno dalla prevenzione alla precauzione e questo viene esercitato dalle generazioni presenti per le generazioni future si tratta di decisioni di disposizioni di modi di essere che rafforzano e consolidano il carattere ogni presente del presente come orizzonte invalicabile del nostro contemporaneo e nello stesso senso deve essere interpretato il concetto di guerra preventiva comparso da poco tempo a questa parte infine il futuro è diventato un fardello di cui nessuno che si tratti di istituzioni o imprese vuole più farsi carico ebbene si dice non si ha abbastanza visibilità per investire assumere prendere una decisione ebbene questa formula torna molto spesso gli unici piani di cui si parla ancora sono i piani sociali che appunto accompagnano quello che è successo vale a dire il fallimento dell'impresa e le previsioni si limitano a previsioni a brevissimo termine in compenso bisogna essere invece molto reattivi sempre più mobili flessibili ebbene viene fatta tabula rasa del futuro e per quanto riguarda il passato c'è la memoria con il patrimonio e la commemorazione così come la giustizia per giudicare la storia di ieri dell'altro ieri o anche di oggi tali questioni non sono affatto semplici ma si percepisce in che modo questi approcci ci portino a considerare il futuro innanzitutto come una minaccia una minaccia da scongiurare per proteggere il presente ebbene e si fa appello alla tecnologia e ci sono computer sempre più potenti sempre più veloci sui mercati oramai guadagnano quelli che possono comprare o vendere una frazione di secondo prima degli altri vengono fatte delle simulazioni vengono moltiplicate le tabelle o invece vengono ridotti i gruppi di indicatori da utilizzare e si ascolta si registra tutto con l'idea di conservare questi dati per sempre per la memoria dei computer della National Security americana e dei loro big data ebbene per loro non c'è che il presente all'immediatezza del tempo dei mercati ovviamente non possono adattarsi né il tempo dell'economia nemmeno il tempo della politica o meglio i tempi della politica tra i tempi della politica ci sono anche i tempi imperiosi dei calendari elettorali ebbene sappiamo che in questi casi tutti vogliono guadagnare tempo e tutti cercano sempre di rimandare la decisione delle elezioni più tardi possibile e l'ultimo venuto l'ultimo arrivato e non meno esigente è quello della comunicazione politica che oramai passa solo dai tweet e avviene in tempo reale più gravemente le nostre già anziane democrazie rappresentative scoprono oggi di non sapere come adattarsi alle procedure e ai ritmi dei processi decisionali non sanno come adattarsi a queste tiranie concorrenti e concomitanti quella dell'istante ma anche quella di un futuro che oramai sembra quasi già determinato e spesso anche quella di un passato traumatico o criminale e tutto questo senza rischiare di compromettere quello che giustamente ne ha fatto a poco a poco delle democrazie la posta elettronica e i tweet sono dei temibili strumenti presentisti e lo constatiamo ogni mattina i dibattiti parlamentari oramai sono sempre più criticati come delle perdite di tempo e le consultazioni attraverso canali elettronici si diffondono sempre di più ma immediatezza e democrazia vanno davvero di pari passo la scuola l'istituzione che per sua stessa natura è orientata al futuro non sfugge a questa messa in discussione un tempo garantiva l'autorità del professore in nome di una promessa di successo differita nel tempo ma reale ma da quando l'avvenire è percepito come qualcosa di chiuso e limitato ebbene anche questa promessa è stata destabilizzata e anzi si rimprovera agli insegnanti di preparare male al presente e da qui derivano riforme incessanti che in realtà non riescono a riunire obiettivi a volta contraddittori oggi la scuola è percepita come un servizio in cui gli scambi sono determinati dai calcoli di interesse a breve termine ebbene gli occhi sono concentrati sull'efficacia immediata di saperi strumentali acquisiti al minimo costo l'ossessione per le competenze concetto eterogeneo che riunisce cose molto diverse ebbene risale al produttivismo scolastico che riduce la trasmissione a una transazione più in generale gli studenti vogliono sapere ma non imparare il progresso tecnico ci fa credere che si possa sapere subito in un click senza dover imparare nulla e quindi riducendo i tempi dell'apprendimento poiché Google o Wikipedia hanno sempre una risposta pronta no 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 non rallegratevi troppo presto ho solo bisogno di un musso d'acqua in quello che definisco l'anzien regime della storicità quindi prima del 1789 per definire una data simbolica ebbene prima di questo regime del passato gli attori avevano certo il loro presente ma lo vivevano vivevano quel presente cercavano di gestirlo e soprattutto anche per dare un senso alle loro esperienze storiche a orientarsi cercavano di analizzare il passato con l'idea che potesse dare delle lezioni degli esempi fosse intellegibile e quindi la storia era un insieme di esempi era il racconto di queste lezioni nel regime futurista o regime moderno invece era l'opposto ci si rivolgeva al futuro era il futuro che spiegava il presente e il passato era verso il futuro che bisognava andare il più velocemente possibile il futuro orientava le esperienze storiche e la storia era teleologica quindi l'obiettivo indicava la strada già percorsa ma anche quella che era ancora da percorrere il 1789 traduceva quindi l'eruzione nel mondo di un'esperienza di tempo sostenuta dal progresso un tempo percepito come attore come attivo in cui il futuro diventa la categoria preponderante la presa della Bastiglia è il 14 luglio ebbene il fatto in quanto tale non era di così grande importanza ma lo era da un punto di vista simbolico poiché le torri della Bastiglia rappresentano il dispotismo e l'arbitrario della monarchia assoluta già dal 15 luglio comincia la sua distruzione ebbene questa antica fortezza non diventerà nemmeno un ammasso di rovine sarà soppressa cancellata l'obiettivo era fare tabula rasa questi gesti segnavano l'apertura di un nuovo spazio e di un nuovo tempo la storia era in marcia e la storia veniva fatta dagli uomini come dirà Marx riprendendo quindi il Vangelo ebbene bisogna lasciare che i morti seppelliscano i morti che il futuro prenda il sopravvento quindi il 1989 è un'altra data simbolica e rispetto al 1789 si chiariscono molte cose passiamo dalla Bastiglia al muro di Berlino il 9 novembre del 1989 ebbene crolla il muro di nuovo si può passare da un lato all'altro si può andare quindi da est a ovest e viceversa e si vedono ancora le tracce della guerra da 25 anni le gru dei cantieri giorno e notte sono attive per colmare quella terra di nessuno quella no man's land al centro di Berlino e forse ci vorranno ancora molti anni prima che questo fossato temporale sia colmato una generazione non basta ma questo muro di cemento simbolo della violenza comunista ebbene non appena esso è caduto è cominciata davvero la sua demolizione solo dopo che è crollato così come è successo per la Bastiglia anch'esso doveva scomparire ebbene col 1789 si è aperta una nuova era che il calendario rivoluzionario ha cercato di trascrivere e di imporre ebbene questo tempo è stato anche quello rilanciato dalla rivoluzione bolshevica e dai suoi progressi compiuti a marce forzate e attraverso altri passi avanti verso il futuro radioso ma non c'è stato nulla di simile nel 1989 da tempo oramai nessuno credeva più nel futuro radioso a est per quanto riguarda l'ovest l'ovest dalla fine degli anni 70 aveva vissuto un duplice fenomeno da un lato l'ascesa della memoria e dall'altro una chiusura rispetto al futuro ebbene sia l'est che l'ovest potevano anche se attraverso percorsi diversi ritrovarsi nel presente l'est voleva alla fine avere diritto a un presente che non fosse più sacrificato in nome di un ipotetico futuro e l'ovest da parte sua era entrato nel presentismo questo presente che voleva diventare il suo stesso e unico orizzonte però attribuendo un ruolo primario alla memoria il presente quindi poteva diventare il punto di incontro denominatore comune anche se ancora una volta la sua consistenza non era la stessa dai due lati anche se una volta passato l'entusiasmo della rinificazione tedesca ebbene non ci si deve sorprendere del fatto che il muro sia stato distrutto e cancellato nel tempo più rapido possibile per poi conservare e preservarne solo delle parti ebbene non poteva diventare una vestigio una rovina ma non doveva nemmeno sparire completamente dal paesaggio urbano bisognava cancellarlo ma senza dimenticare per questo la soluzione è stata quella di renderlo un luogo di memoria il concetto era già lì pronto disponibile ebbene c'era un dovere memoriale da rispettare delle vittime da onorare una lezione da trasmettere un messaggio da passare alle nuove generazioni ebbene il compimento di questo programma è culminato nella creazione di un grande memoriale del muro nel 1998 l'elemento centrale ebbene era costituito da un segmento stesso del muro che mostrava su una sessantina di metri il dispositivo del muro così come era prima del suo crollo e alle due estremità due lastre di acciaio alte 6 metri erano poste perpendicolarmente per chiudere lo spazio ebbene la cortina di ferro era là lo spazio veniva serrato chiuso il tempo veniva fermato ebbene potete anche contemplarlo dalla terrazza del centro dei visitatori quindi dall'ovest la museificazione è raggiunta alla sua fine un'espressione violenta del fallimento del futurismo dell'est ebbene le vestigia del muro sono entrate a pieno titolo nel presentismo quello abitato dalla memoria e dai ritmi delle commemorazioni ebbene ed abbiamo appena celebrato il 25esimo anniversario del suo crollo la singolarità del regime presentista ebbene riguarda questa unicità del presente un presente che è esperito ogni giorno da ciascuno a livello personale o professionale in questo contesto nessuno sa più che farsene del passato perché non lo si vede più ma nemmeno del futuro che non viene più visto nemmeno lui ebbene non ci sono più eventi che si estendono nel presente nel futuro ma solo elementi a cui reagire nell'immediatezza al ritmo incessante delle strisce di notizie delle breaking news con internet oramai si sono imposti il tempo reale la simultaneità di tutto nel continuo incessante delle cose tutto appare sul piano del presente in questa nuova condizione digitale che è anche una nuova condizione storica ebbene articolare passato presente e futuro diventa sempre più problematico ma appare anche allo stesso tempo necessario e questo sebbene la globalizzazione sembri rimandare sempre di più la possibilità di una narrazione comune a ciascuno la sua memoria a ciascuno il suo sito a ciascuno il suo blog secondo una demoltiplicazione incessante e sempre mutevole il presentismo sicuramente da solo non basta spiegare la crisi attuale ma forse sottolinea i rischi e le conseguenze di un presente onnipresente onnipotente che si impone come unico orizzonte possibile della coabitazione ebbene ci hanno parlato fino allo sfinimento del cattivo capitalismo finanziario orientato solo al breve termine opposto al buon capitalismo industriale dei manager di una volta o di un passato forse ancora più lontano ma da quando gli storici si sono orientati sulla storia del capitalismo ebbene hanno riconosciuto la sua plasticità se c'è una certa unità del capitalismo dall'Italia del XIII secolo fino all'occidente di oggi ebbene come concludiva Fernand Brodel questo è dovuto proprio a questa plasticità una plasticità che ha concesso al capitalismo di adattarsi di trasformarsi e quindi di mutare e calibrarsi quindi una volta superata l'emergenza e la crisi finanziaria del 2008 ebbene oramai regna ovunque una grande difficoltà ad andare oltre al presente si reagisce invece di agire e l'Europa continua a mostrarcelo da qui il valore rassicurante di una formula come la ripresa riprendere effettivamente significa ripartire là dove ci si era fermati e ritrovare la strada che si conosceva già queste disposizioni sono direttamente legate alla nostra incapacità collettiva di sfuggire a quello che ormai viene definito il corto termismo ma che io preferisco chiamare presentismo il presente solo unico quello della tirannia dell'istante e dell'essere infossati in un presente perpetuo parlare di presentismo non significa collocarsi in un registro all'insegna della nostalgia di un regime precedente considerato migliore e non significa nemmeno collocarsi in un contesto che voglia denunciare o che voglia semplicemente riconoscere quindi l'ordine presente del tempo quando si parla di un presente e ogni presente al contrario bisogna interrogarsi su come uscire dal presentismo ebbene al di là di essere uniforme e univoco questo presente presentista in realtà è molto variegato a seconda del luogo e del ruolo che si occupa nella società da un lato abbiamo un tempo all'insegna dei flussi dell'accelerazione e di una mobilità che è valorizzata e che mette in valore dall'altro c'è quello che il sociologo Robert Castello ha definito il precariato vale a dire un presente in piena decelerazione un presente senza passato un presente complicato ancora di più per gli immigrati gli esiliati gli sfollati un presente che è privo di futuro poiché il tempo del progetto è inaccessibile il presentismo quindi può essere un orizzonte aperto o chiuso aperto verso una sempre maggiore accelerazione e mobilità o chiuso richiuso su una sopravvivenza quotidiana e su un presente stagnante a questo bisogna ancora aggiungere un'altra dimensione citata all'inizio e che riguarda il nostro presente quella di un futuro percepito non più come promessa ma come minaccia ebbene alla fine chi desidera fare un'esperienza presentista e qui arrivo alla mia conclusione ebbene chi vuole fare l'esperienza del presentismo non deve che aprire gli occhi parcorrendo queste grandi città del mondo per le quali l'architetto olandese Rem Kulas ha proposto il concetto di città generica associato a quello di junk space qui regna il sovrano il presentismo un presentismo che erode lo spazio e riduce il tempo o addirittura lo espelle quindi liberata dall'asservimento al centro la città generica è priva di storia anche se desidera adottarsi di un quartiere alibi in cui la storia torna come una prestazione con dei trenini o delle carrozzelle e se malgrado tutto c'è ancora un centro ebbene e qui riprendo proprio le parole di Kulas ebbene esso deve essere contemporaneamente il più nuovo e il più antico il più fisso ma anche il più dinamico quanto allo junk space è e cito ancora ah è la città generica che avanza a grandi passi quindi riprendo la definizione di junk space di Kulas di Kulas ebbene è il risultato dell'incontro tra l'escalator dell'ascensore e della climatizzazione quindi questo concepito in un incubatrice in cartongesso il junk space ignora qualsiasi processo di invecchiamento conosce solo l'autodistruzione e il rinnovo sul posto o conosce invece un'evoluzione ultra rapida gli aeroporti sono diventati il simbolo della città generica vale a dire questo work sempre in progress e della sua realizzazione con quei cartelli del tipo ci scusiamo per il disturbo arriccato occasionalmente eccetera eccetera sono queste città sempre in movimento sempre in trasformazione che inventano percorsi sempre più complessi per i suoi abitanti temporanei gli aeroporti sono i grandi produttori di junk space sotto forma di bolle spaziali in perenne espansione trasformabili e di questo spazio forse dovremmo ricordarcene perché nota ancora l'architetto Rem Kulas ebbene rappresentano un rifiuto di cristallisarsi e questo garantisce un'annesia istantanea ma mi chiedo si può vivere in una città presentista grazie mille della vostra attenzione